Nella modalità, proprio in questa lingua, dei segni, si continua con la parte artistica, musica realizzata da un nome certamente famoso a livello internazionale come Wolfgib, e la performance si baserà su 128 artisti, 20 dei quali con disabilità, che rappresentano il 15% di questo gruppo e, diciamo, questo riecheggia la campagna We The Fifteen lanciata dall'IPC. Lo stormo di uccelli è quello che rappresenta questa curiografia. Claudio, cerca la disabilità in questo 20%, io non l'avevo. Eh no, non si vede proprio. Bisogna stare molto molto attenti per notare che c'è qualcuno che ha una disabilità. Una carrozzina, qualche carrozzina si vede, un'unica disabilità, è uno strumento, non è una disabilità. Meraviglioso da vedere, ecco, questi movimenti così sincronizzati, stupendo. Chapeau! Come dicono da quelle parti. Ah, sì, poi ci si lascia andare giustamente, ed eccoli qua.